Ciao a tutti ragazzi e bentornati nuovamente sul canale wrestling Siamo di nuovo qui per una nuovissima puntata di Persona 4 Golden per PC Ok, allora, ieri Che abbiamo fatto? Abbiamo ucciso il mostriciattolo del castello Come prima cosa E poi abbiamo girovagato un pochino E abbiamo consegnato gli oggetti alle persone che ci avevano richiesto Che avevano, diciamo, avevamo sbloccato le quest E poi niente di che, diciamo, è stato molto low profile come giornata E niente, oggi continuiamo e vediamo che cosa succederà Se succederà qualcosa di nuovo su questi schermi Eravamo rimasti, se non vado a raro, dall'interno della nostra classe Che diluviava Sì, infatti, eccoci qua all'interno della nostra classe e diluvia Ok, bene E io mi faccio qualche giro Qui all'interno della scuola per vedere se qualcuno ha bisogno di qualcosa Se non vado a raro, avevamo già girato una volta finita la lezione E non c'era nessuno E infatti non c'è nessuno Neanche dall'altra parte Bene, allora io penso che uscirò E andiamo sempre qui, ovviamente, perché questo, diciamo, è il fulcro della città Questo sta sempre lì Io entrerei un po' qua dentro Vediamo un po' Vediamo se c'è qualcosa di nuovo Ah, non c'è la nostra Mary O Maria Qualcosa è cambiato Maria non c'è Ah, ma c'è qualcosa per terra Un pezzo di carta Qualcosa è scritto sopra Allora Ascolta la mia voce La mia voce tipo urlante Au Sono la sirenetta Incapace di tornare Dedico Alla schiuma Il piccolo La piccola Sirenetta Una cosa del genere Un po' complicata Questo è quello che è apparso bene Scritto Eh, infatti Il senso Della Diciamo Il senso della poesia È difficile Da Da commentare Oh, è ritornata Insomma, hai letto quello che c'era scritto? Non è questo Che non è un poema È la Come si dice È urla Diciamo Ai confini del mondo Che questo Diciamo Non è un poema Non so che cosa ho detto Le parole sono Venute Diciamo Da sole Stupid Vabbè, ok Sei un buzzicone Lascia perdere Non mi rompe le scatole Non leggere le mie cose Maria Sarà andata Vabbè Arrossisce Sì, furiosamente Ok Sembrerebbe che Maria Diciamo Fosse l'autrice Della Della poesia Che ho appena letto Ma perché stava Diciamo Per terra Non lo so Vabbè Si rimette Seduta Praticamente Ok Va bene Allora Vediamo un po' Checchiamo Il nostro compendio Registriamo le persone Perché sono passate Diciamo Tutte quante Di livello Quindi le registriamo Tutte quante Perché se le registriamo Le perdiamo Quindi Meglio registrarle Allora Vediamo se possiamo Fondere qualcuno Facciamo una fusione normale Ah, vediamo se c'è La fusione in base al tempo Oggi Niente Effetto Bonus Stard Ok, sì Oggi c'è qualcosa Domani Domani no Allora Normale Triangolare Facciamola normale Va Eligor Yezai Ah, Russia Questa mi interessa Ah, interessante Ok Abbiamo Come abilità Light Vabbè Fisica Per Uno Ah, da uno a tre Fisico Sempre Ok Da uno a tre Con la chance Di Diciamo Rendere esausto Diciamo L'avversario Sì Di esaurimento Anzi E poi abbiamo Il 10% di chance Di riflettere Gli attacchi fisici E poi c'è questa Che cos'è Ah, questa tutti Bene Io questo Lo Lo faccio Ah, che cosa mi porto Bene Che cosa mi porto Allora No Sicuramente Diminuisco L'evasione Ok Incremento L'attacco E Ah, ok Diciamo Se è più forte Al fuoco Del 25% Ah, ristora Il 3% Gli SP Prende un 1x4 1 su 4 Di esperienza Anche se è inattivo Bah No Però Fa il Questo invece Ah, aumenta la difesa Sì Io prendo tutti quanti gli stati Questi buoni Che ti aiutano Rakshasa Bene, bene Figo Passato di livello Intanto non arriva Al 25% Penso No Ah, sì No No Ok, bene E questo L'abbiamo preso Poi Vediamo Che altro Possiamo Creare E sono al 24 Il power Questo Oh, bello Ma non lo posso fare Perché tanto Ah, la finisce Eh Shisha Qua Come si chiama Shisa Posso fare Principality Ma Non è che Insomma Ah, questa è elettricità A tutti quanti Ah, nulla Gli stati Delle penalità Su Sul tutto Il party Eh, questo Non è male Però poi Però poi Me lo do Andare a riprendere Vabbè Vabbè Adesso Me lo Me lo tengo Va Magari faccio Questo Insieme a Questo Lilim Mamma mia Sembra Chiactus Wow Bello Ah Silenzio E Diciamo Dà paura A un avversario Wow Sinceramente Non è che Mi facciano Impazzì Ma più che altro Lo faccio Tanto Non Magari Ecco Ne faccio tre Va Faccio questi tre Uno Due E tre Ah Beh No Mi sa che Non lo posso Fa Legione Ma quanto Si è brutto Eh Ancora Arma Mamma Quanto Si è brutto Mi difiuto Sinceramente Elicor Ce l'abbiamo Matador To install kill Uno Due Vabbè No Io sinceramente No Mi ritengo Non faccio più alto Quello mi piaceva di più Però mi prendo Mi vado a riprendere A meno Zoom Perché È forte Eccola qua No Questa No Si Capito 7300 yen Mi costa Eh Cioè Che Vese Ciao È stato un piacere Ok Visto che stiamo qui Già stiamo Ma sai che bel tempo Vado a A fare Mi vado a mangiare Visto che piove Eccolo Questa cosa qui Il Mega super ball Mega beef ball Con 3000 yen Si Va bene Spendiamo Nel tempo Così Mi aumenterò un po' Di Status Per fortuna Vabbè Questo dice sempre Le stesse cose Dell'altro giorno Vabbè La quantità di carne Continuta in questa ciotola È sbalorditiva Diciamo Per finire Questa ciotola È necessario Comprendere Diciamo I miei limiti La conoscenza Per controllare Il mio Ritmo Diciamo Ah il coraggio Va bene Ok Diligenza No Ancora non sono Diciamo Abile a finire Questa cosa E vabbè Ci frega niente Eeeh 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 Vai Perfetto Direi È stato un piacere 3000 yen Certo Ciao 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 Ah Mia figlia Dice Ah tu sei lo studente Che ti sei trasferito Mia figlia Dice che sei Figo Oh grazie Ah il suo nome È Aika Ah ok Muove fuori Per una consegna Ah Bene bene Ci piace Abbiamo rimorchiato Alla nostra insaputa Ah ciao Ciao Tutto a posto Ah si è fermato Di piangere Sì di piangere Di Di piovere Di piovere Ma i lampi Eeeh Ma Diciamo Il tuono È stato Molto forte Eeeh Ero spaventato Cioè ti sei spaventato Big bro No assolutamente Io Non mi spavento Di niente Oh C'è una missione Di con lei Ah no Però non voglio andare A mangiare Perché Perché Mi guarda come se Non stesse facendo Nulla Sento che la mia Relazione con Nanako Diciamo è pronta Per aumentare Spendiamo il tempo Con lei Certo Mia cuginetta Tanto simpatica Vabbè Momenti preziosi Con lei Ah basta Ok Buono Ok Vediamo un po' Se succederà Qualcosa di Interessante Ah oggi è sunday Quindi è Giorno libero Dai Ok E' fino di piovere La prima cosa Importante E' questa Ah si Mi devo preparare Per domani Che ci sarà La Il Diciamo Il Che farò oggi Per preparare Insomma Per gli esami Allo Ciao Tutto a posto Ok Va bene Visto che l'altro giorno Non sono andato con lei Posso scegliere Sicuramente C'è la possibilità Di scegliere con lei O con Yusuke Ma Non lo so A me sta più simpatica Lei quindi vado con lei Certo Ci vediamo presto Dai Bella Ah siamo andati al parco Va bene Sembra bello Ah bene Quale training Ok Deve aumentare Diciamo Le sue skill O deve essere abile Tu Di usarle in battaglia Ecco Va bene A casa non lo può fare Perché i genitori si incacchiano Giustamente Bene Abbiamo tempo per farlo Giusto? Va bene Bene E' molto contenta Siamo contenti anche noi Bene Let's stand together Facciamolo insieme Dai I'm cool Sono Insomma va bene Sono a posto Credo di si Che dolore Sono a posto Perché soffigo Dai Dai E' molto contenta Ok E' quella cosa Sai Di quel momento Intendo l'ombra Che mi è uscita Era Sentivo Diciamo Mi sento Mi sentivo Patetica Sapere che Cioè Questa è un'altra parte Di me Mi fa sentire Come se dovessi Lavorare di più Bene All right Let's do it Facciamolo Bene Va bene Ok Inizia il nostro Allenamento La nostra amicizia Sta crescendo Dai Abbiamo aumentato Perfetto Ammazza ancora Rank 2 Con lei Porca miseria Ero convinto Di essere già Al terzo O al quarto Wow Rebellion Perfetto Ah Dobbiamo Ah giusto Ahiaiaiaiaia Allora Rebellion Che cos'è Vediamo un po' Critical rates Ah Beh Si Non è male E mo Dobbiamo capire Che cosa toglie Questo lo fa Tutti Questo Assolutamente No Allora Ghiaccio Soltanto A uno Skull Crager Incrise Un alle Attack Sono tutti Uguali Allora C'ho Questo Che fa Attacco Fisico A una Persona Poi c'ho Questo Che lo fa Un altro Vabbè Tolgo Questo E ci mettiamo Rebellion Perfetto Dai Buono Ok Partiamo Cominciamo Oggi Con I salti Diciamo A rana Come on Andiamo Vai Ok Torniamo A casa Ciao E' stato Divertente Ciao Che succede Oh La prima volta Che non stai seduta Davanti alla tv E' persa Nei suoi pensieri Che cos'è Che 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 non va Aspetta che sia lei a parlare No Chiedo che cos'è Che non va Quale è il problema Quale è il problema Ok Diammeli a me Io do io a lei Una cosa carina Ah si Diamoli a lei Alla mamma Cioè Insomma Sulla tomba Ha detto che Insomma La mamma Nel paradiso Sì sì Andando La tua mamma I fiori Sicuramente Andiamo Ha fatto Veramente Un buon Diciamo Un buon Lavoro La professoressa Ha detto Che è stata Brava Mi chiedo Se mia mamma Sarebbe felice Di prenderli Certo Bene Siamo contenti Io dovrei fare Dei fiori Sì certo Così possiamo Celebrare Il giorno Della mamma Insieme Va bene Ah E sto Facendo anch'io Figo Figo Facciamo Ricami Bello Dai Ok Vado A metterlo Nella galletta E poi vado Io Nella mia Stanza Posso fare Qualche cosa Sì Posso Vorrei finire Quel libro Bene Leggiamolo Eccolo Qui Mancava Il terzo Così posso Studiare meglio E la mia Conoscenza Aumenta Sicuramente E la mia Conoscenza È aumentata Dai Buono 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 E anche Un altro giorno È passato Io penso Che la cosa Sarà lunga Ragazzi Nel senso Che ancora Nessuno È stato Gettato All'interno Della tv Quindi Niente Dobbiamo passare I giorni così Cerchiamo di fare Le missioni Di andare in giro E diciamo Aumentare I social rank Con Con gli amici E conoscere Altre persone Oii Bella C C E Gli esami Sono finalmente Iniziati Diciamo Ho Hai studiato Hai studiato Oppure Impara Dalle Dalle Battaglie Ho studiato Sì Lei Io ti sembro Ti sembro Pronta Ma Anche Diciamo Una volta Terminati Gli esami Non fatto Diciamo Non 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 l'avrò Fatto Con il Caso Tutta Questa Roba E Deprimente Che sta Succedendo Continua Comunque Andare Avanti All'infinito Bene Quindi oggi Iniziano Gli esami Bene Ah Come è chiamato Diciamo Quando i muscoli Diciamo Si ingrandiscono Dopo un esercizio Ah Questo Già l'avamo Fatto Overcompensation Se non Vado Errato Eh Scusatemi Eh Ah Qual è L'anno Prima Dell'uno Avanti Dopo la Morte Questo Pure Abbiamo Già Fatto Uno Before Christ Ok 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 È giusto Finito Basta Ah Sì Passiamo al secondo giorno Sempi di esami Dai Allora Vediamo un po' Quale di questi tipi di Numeri Non esistono Questo pure Mi sembra che Già Abbiamo fatto Marriage Numbers Non vado Errato Abbiamo detto Sì Boh Sarà giusto Ah Penso che sia Che sia La risposta Corretta Ah Chi è che ha tradotto I love you The moon is beautiful Ok Sossessi Yukishi Soseki Natsume Shimei Futabatei No mi sembra che fosse Sì Soseki Natsume Sì Sì Da giapponese Sì sì Me lo ricordo Bene Ah ok Sì pure Questo è finito Andiamo avanti Taglie Terzo giorno Di esami Ragazzi Chi è che Ha detto Non appena Le leggi Sono Non appena Le leggi Sono necessarie Per gli uomini Loro Non sono Più Adulti Per la libertà Una cosa del genere E questo Chi l'ha Vada Niezze Pascal Buu Allora Pascal Ce leggi Pitagora Niezze Che La legge De Pascal Ci sei Pitagora Buu Pitagora Pitagora Oh Bah Mica lo so Ah ok Quale di queste Seguenti Montagne La più alta Del sistema Solare L'avevamo Già Visto No E' L'Olimpo Ce l'aveva Detta la signora Che sta Dov'è Che sta Su Saturno Se non Bate Errato Come Sapremo Se è giusto Ammazza Ma quanti giorni Dei Tutta la settimana Ah l'ultimo giorno Di esami Buono E' il giorno 12 Penso di aver Risposto bene A tutte le I quesiti Bene E' finita Finalmente Dai Che bel carico Scommetto che ogni Studente Si sente Insomma Affaticato Dopo Gli esami Eh si Si c'è Si sente carico Dopo che gli esami Sono finiti Sta un po' zitto Non rompe le scatole Che cosa ho scritto Al numero 7 Circa Diciamo Riferito Alla Che si riferiva Alla frase L'espressione Dolorosa Cacchio Ho sbagliato Ha messo Ah il riso La torta di riso Sul tavolo Bene Bene Si Ma che roba Era E' andata meglio In geografia Quale ho usato Per la montagna Più alta Del sistema Solare Olimpo Ah ma se Una pippa Ragazza Ah pure L'ha messa Vabbè Eh Non posso aspettare Non posso aspettare Per diciamo La graduatoria Che viene pubblicata Diciamo Nella sala Dove passano Tutti quanti Possono vederla Hai sentito La stazione tv La stazione tv Fa delle riprese Diciamo In città Probabilmente Stanno solo Facendo più cose Dicendo più cose Su quel caso Del catavere Che era appeso No non è quello Conosci diciamo L'autostrada Più vicina Nelle vicinanze Lì Ah per quanto riguarda Diciamo Le bande di motociclisti Che si aggirano all'intorno Ok a mio amico Va da questi motociclisti Cioè l'ha incontrato Ogni tanto Che l'ho sentito Da loro Beh sti gatti Che ci frega A noi Dei biker Che fanno parte De una gai Sì Di un gruppo Di bikers Beh sì No ci vediamo fuori Dovrà piovere Spero che Diciamo Pioverà presto Non sarà meglio Giocare Anche domani Biker gang Sì Sì Noi viviamo sulla strada Il rumore Ti fa impazzire Ha sentito che alcuni ragazzi Della scuola Fanno parte Di questa Posto Di questa gang Ah addirittura Vabbè Il primo anno Non so niente Il primo anno Fa parte Di questa gang Uno che lavora Da June Vabbè Non pensi che lui Era una leggenda Eh no Ah ok Bene Ok che facciamo Vediamo un po' Se c'è qualcosa Da fare Qualche missioncina Volevo salire su Vediamo un attimo Se intanto a scuola C'è qualcuno Che ci dà qualche missione Ah ok Possiamo passare Ammazzata Dovremmo sì In effetti Aumentare I rank sociali Di tutte queste persone Mo' facciamo Vediamo un attimo Pure Ah pure Ah eccola La ragazza Ciao Ah un'altra volta Perché stai sul tetto Quali sono i tuoi hobby I tuoi I tuoi I tuoi I tuoi I tuoi I tuoi Ah Leggi un libro Come un Diciamo Leggi un libro Come Come un intero Il mondo Si apre Per te Capisco Diciamo Sono eccitata Come la prima volta Che apro un libro Ah quando leggi un libro Ok sì Non penso che posso chiedere a lei Altre cose E tornerò un'altra volta Va bene Allora Vediamo un attimo Nostri Status Link Mio zio Mio zio La volpe L'atletica Sta a due Aiani Ah sta già due Pure lei Dobbiamo scegliere Yusuke C Bene Bene io Faccio Yusuke Va Oggi decido che voglio Si vedermi con Yusuke Scendiamo giù Ah un'altra cosa Voglio vedere un secondo Se al primo piano Cioè al piano terreno Ci sia qualcuno Con qualche missioncina No Anyone No Allora vediamo pure qui Già che ci sto No Ok Torniamo Nell'altro palazzo E andiamo da Yusuke Ciao Si sono libero Andiamo da qualche parte Visto che c'ho Jack Frost La persona del Magician Arcana Possiamo Essere più vicini Ok Si Andiamo Vai Let's go Oh Al cinema No Okina Station Yusuke Dove Siamo andati davanti Insomma Mi ha portato qui Questo è quello che significa Diciamo Un rispiro Diciamo Di questa Specie di aria Sono soltanto Un piccolo Un povero Piccolo Ragazzo Di città Che è stato Buttato In una Attirato Diciamo Da un profumo Urbano Sente Sta Dice che Aspetta un momento Mi sembra di sentire Teddy Davvero Allora Mi sembra di sentirlo Anch'io Oppure Teddy È carino Sembri Più Peloso Ah no Anche lui Sembra come te No ma questo qua Si mi piace di più Oh Assolutamente No Si sta Impanicando Che cosa Facciamo Ecco Il telefono Altispam Che frega Niente Perché non li blocchi Cioè qualcuno Diciamo Ha preso Ha preso Il suo Indirizzo E quindi Ricevo tanti Spam E noi Diciamo Perché non lo Blocchi Perché non Cambi Indirizzo O Che cosa Puoi fare Perché non li Blocchi Ah ogni volta Loro cambiano Dominio Quindi è difficile E non voglio Cambiare Il mio Indirizzo Vabbè È già cambiato Vabbè Se chiamo Diciamo le persone Per dire che il mio numero È cambiato Si potrebbero Infastidire Vabbè E nessuno Di loro Non ha mai Non programma mai Di scrivere Di scrivermi Di scrivermi Non mi guardare così Non ho Nessun amico Ok Vabbè Dobbiamo fare qualcosa Conto su di te Partner Vabbè È entusiasta È il nostro La nostra amicizia Sta aumentando E vai Social link È aumentato Rank Anzi invece di più Magician Arcana È aumentato Bene Ah Ora mi può Può diciamo Seguirmi Può eseguire Il follow up L'attacco Durante la battaglia Bene Allora Quando tu Butti giù Un nemico In battaglia I tuoi alleati Qualche volta Mi possono Seguire Torniamo indietro Tutto qua Quello che abbiamo fatto Con lui Vabbè Prendiamo un sumini Prima di tornare a casa Ciao ciao Un bacio A baci e abbracci Già finito Ammazza Pensavo che Potessimo fare qualcosa Sì I'm back Ok Ah posso Posso cucinare Posso avere una parola Scambiare una parola Con te Ma io vado A Jun's Vado da Jun's Parecchie volte Eh spesso Eh spesso Questo Questo cacchio di Questo culo di Hadashi Continua a svanire Di tanto in tanto Immagino probabilmente Si stia rilassando Da Jun's Ogni volta che Ah se lo vedi in giro Quando sei da Jun's Probabilmente Insomma Sta scherzando Starà scherzando Probabilmente Insomma Da Jun's Quindi Se tu vedi Hadashi Da Jun's Chiamalo Chiamalo Chiamami Ok Ti ricordi Vi avevi visto Da Da Ragashi Praticamente Alla Parte Del Del Cibo Diciamo All'entrato Do c'era il cibo Prima Ok Va bene Basta Ok Allora Vediamo un po' Posso Cucinare Oppure Posso Penso Parlare con lui Vediamo un po' Come va Bene Maybe Noi Non siamo Sulla giusta Sulla giusta Linea Diciamo Ah ok Non posso Come trattare un liceale Ah se Se la mia espressione Era a livello Eloquente Io ero abile Diciamo Ad andare avanti Nella conversazione Va bene Allora io direi Cuciniamo Ragazzi Finalmente Ok E la carne Stick di carne Mi sembra Stufato di carne Ok Qua fuoco lento Come dovrei cuocerlo A fuoco lento E io che ne so Faccio sbollire Senza coperchio Uso Un forte Calore Cucino A fuoco lento Con un coperchio A goccia E' interessante Io faccio questo Mi sembra Più Lo faccio sbollentare Diciamo Allo cucino A fuoco lento Con un coperchio A goccia Sono buoni Gli ingredienti Sembra perfetto Buono Ah a posto Cioè va bene Tutto a posto Che ne so Non ho fatto sapere niente C'è la miseria Lunch break Ok Oggi ho preparato Il mio lunch Bene Quindi sarò contento Di assaggiarlo Con qualcuno Cioè di mangiare Con qualcuno Con chi voglio spendere Diciamo Il mio tempo Ci Diamo un po' Outers Allora Quello l'ho fatto Quello Q Sì sì Questo è il ragazzo Del basket Così forse Ci avviciniamo Anche con lui Va Oh Svegli L'hai fatto tu Sei bravo In cucina Ma mi dovresti Vedere Dovresti Vedere A me Ah bene Bene La nostra Amicizia Si avvicina Cioè Ma è più Stretta Ok Aspettiamo Che piovi Ah oggi Ho sempre Il job Part time Quello Del Oddio L'aiuto Il badante Diciamo Ah Si Ok Bene Allora Vediamo Un po' Che cosa Fare Non lo so Io non penso Che andrò A lavorare Ho deciso Che non voglio Lavorare Quindi andrò In giro E vedrò Che cosa Posso fare Ah Vado sempre Su Vado sempre Sul Sul tetto Perché così Posso vedere Se magari Quella Mi dice Qualc'altra cosa Che non ho capito Se effettivamente Va avanti Oppure no Questa Vabbè Vabbè Ciao A quel paese Andiamo in città Andiamo da Junets Ah Vedi chi c'è sta Però voglio andare più Da questa Andiamo un po' Posso comprare Si si Return icon Per 1.900 Si Compriamo Vai Oppure se Non so che Qualcosa con cui Ti fa ritornare fuori Dalla Dalla missione Si sono io Posso aiutarti Che cosa Stai facendo Ah Dojima mi Ah è vero Perché dovevo dirlo Perché Dojima Mi ha detto Di venire E E E Chiamarlo Ah Davvero Io lavoro qui Come lavori qui Sta lavorando qui Bene Ah è facile Investigare più Con tutte le persone Che ci sono E Figo Diciamo In estate Ed è Caldo In inverno È un bel posto Ups Ho detto Abbastanza Allora Vado in giro Vengo in giro Con te Questo è Questo è Tutto ciò Che sono venuto A chiederti No Vengo con te Ah Questo è strano Andiamo in giro Cosa stai facendo Qui Perdi tempo Mazzi il tempo Non c'è niente Qui Non è come la città Non è così male Puoi dirlo di nuovo Ah no Non è così male Oh yeah Ma tu si vieni Dalla città Ok Ah Oh C'è Vabbè Il predente ci ha detto che lui è stato Ha fatto i primi casi un po' scemi Uno con un gatto e l'altra con Insomma una coppia Ne sembra insoddisfatto di questo Di questo posto E' molto più Diciamo Pericoloso ultimamente E quindi non mi posso rilassare C'è questo caso Che tu sai che non è risolto Dice sempre qualcosa di Che non deve dire Voi ragazzi non dovete avere niente Di preoccuparvi La polizia sta facendo il suo lavoro Si sta prendendo cura di te Ah muo pure con le ui Dai Bene Vediamo un po' Zero Wow Jester Arcana Jester Meglio forse Jester Jester Arcana Buono Deve tornare al lavoro Ciao Che è successo? Ma sono una vecchietta C'ha un po' d'ansia questo Sì Vai vai Ciao È stato un piacere Non dire a Dojima Che io stavo da Junets Ok No come no Io voglio di subito invece Faccio subito la spia Eh Ti pare a te Ah Il mondo Disturbe la quiete pubblica Ah Uno dei leader di questo posto Di questa gang Ha attaccato la telecamera Ah che cacchio sta da fa' qui Questa voce Non è uno show Andate Questo è sempre Il vecchio Vecchi trucchi Lo conosci? Lo conosco attraverso il lavoro Ha schiacciato diciamo Un motociclista Nella zona della scuola media Diciamo lo Al liceo Ha un negozio di tessuti La famiglia di questo essere Ha 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 Schiacciato Tra virgolette Si Il I motociclisti locali Perché Tenevano sveglia la madre Però È un gesto molto buono Però È più lento Eh Ah Dio Eh da Domani piove Dobbiamo fare la audizione Inside the house Va bene Enough For today Enough Wow It started raining I guess the weather report was right Mazzavo Solo in questo videogioco Il Il Medio È sempre Perfetto Eh Stasera ci sarà lo show Dai Speriamo di no Eh Questo sarebbe buono Ma Ma possiamo fare Diciamo Il 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 Punto Sul Ci sarebbe Diciamo Qualche indizio Questo Diciamo Può indicarci L'assassino Ok Sì sì Guardiamo Ciao Tutto a posto Finito Va bene Stasera guarderemo Finalmente Il canale Magari succede qualcosa Ah già Sì Rammazza Subito Orchè Eh Ciao Ok ragazzi Anche per oggi Direi che È tutto Ehm Anche oggi Come vi ho detto All'inizio Eh Insomma Ancora non è successo niente I giorni passano E Aumentiamo le nostre statistiche Del social rank Conosciamo altra gente Eh Quando abbiamo Diciamo Il Tanto tempo libero E Stasera Vedremo La televisione E quindi Probabilmente Succederà qualcosa Nei prossimi giorni E Se vi è piaciuto Il Il video Come sempre Mettete Un like E ricordatevi Di iscrivervi Al mio canale Wrestling Ciao Ciao